Questo è un altro tassello importante, Castiglion Fiorentino vi dà sempre grandi soddisfazioni. Certo, si sta lavorando, si cerca di mettere in atto il nostro sistema di comunità. Io credo che Castiglion Fiorentino è una cittadina matura per capire che i problemi si possono risolvere assieme. Tutti, tutti si possono risolvere e questa oggi è una dimostrazione. Tra l'altro non vi fermerete qui, avete già in mente tante altre cose. Sì, anche perché l'obiettivo era 8.000 euro, invece siamo a 1.358, quindi mancano ancora diverse migliaia di euro. E credo che già nei prossimi giorni, abbiamo parlato con gli insegnanti, con il commissario, con la responsabilità scuola, quindi nei prossimi giorni già Castiglion Fiorentino si rimetterà di nuovo all'opera per raggiungere questi 8.000 euro. Ma probabilmente finito questo obiettivo, questo traguardo, continueremo su altri anche più ambiziosi. Tutto questo va sicuramente sviluppato, va incrementato e va anche richiesto, perché bisogna avere anche il coraggio di chiedere. Soprattutto nei momenti più duri bisogna anche dire facciamo delle cose perché questo ci serve, perché serve al Comune, perché serve ai Castiglionesi. Anche da un punto di vista proprio del sostegno, del sostegno se non finanziario, ma c'è anche un sostegno finanziario perché l'abbiamo visto in questa occasione, anche da un punto di vista del sostegno psicologico al Paese che non vede depauperare tutto il patrimonio che in questi anni è stato messo in piedi con il loro contributo e con le loro forze.